Siamo nello stand del Circolo Subacchio di Casale Monferrato in compagnia di Claudio Incerto. Allora, quali sono le novità e cosa avete in mente per questa fiera? Guarda, anche quest'anno siamo tornati alla Fiera di San Giuseppe con il nostro stand per far conoscere quello che è il nostro Circolo Subacchio di Casale Monferrato a tutta la popolazione che viene qui a fare un giro, vedere tutti i vari stand. Abbiamo ripreso tutte le nostre attività, quindi le nostre immersioni, i nostri incontri dove sostanzialmente parliamo della passione che ci accomuna, che è il nostro mare, i nostri aperitivi oramai diventati famosi in tutta la zona dove oltre a parlare di mare beviamo un ottimo bicchiere di vino e mangiamo qualcosina assieme. Quest'anno abbiamo anche, come gli altri anni, avuto la possibilità di portare una presentazione che faremo sabato 18 marzo dalle 16.30 alle 18.30 nel salone degli eventi della Fiera regionale di San Giuseppe. Il titolo della presentazione è Sai cosa c'è sotto? Bellezze e stranezze del nostro mare. Sostanzialmente parleremo di tutti quelli che sono gli organismi viventi più strani e più particolari che possiamo incontrare durante le nostre immersioni. Noi vi aspettiamo numerosi, vi invitiamo qui al nostro stand per conoscere quello che è il nostro Circolo e il nostro gruppo di amici. Grazie.